Ehi, ciao raga, sono Fantasy Dash e siamo in nuovissimo video! Lo so, non ho detto channel, perché come sapete il mio nome è solo Fantasy Dash, quindi il channel non c'entrerebbe in un bel niente. Quindi lo slogan sarà soltanto, e ciao raga, sono Fantasy Dash e siamo in nuovissimo video, eccetera eccetera. Come cominciare bene il 2020 cambiando slogan, anno nuovo, vita nuova. Vabbè, parlando di questo, c'è un video in cui parleremo di una cosa molto seria che purtroppo ci ha un po' colpiti un po' quelli che fanno i video su YouTube. Noi YouTuber, sia quelli più piccoli, sia quelli più grandi, sia quelli ancora mega grandi, di iscritti e YouTuber più famosi. Cioè la legge Coppa. Purtroppo questo incubo è arrivato, non lo volevamo mai, ma purtroppo è arrivato anche qui in Italia questa legge Coppa. Mannaggia! Ma comunque sapete in tantissimi che cos'è la legge Coppa, in cui è una cosa che è destinata ai bambini. Cioè facciamo un esempio, io ho un canale in cui faccio video con i poni, ok, quello è destinato ai bambini. Purtroppo per quelli che hanno il canale dedicato ai bambini si disattiveranno i commenti e pure tante altre cose, quindi per noi non è una cosa tanto bella. E sì, è un po' sad questa legge e quindi dobbiamo per forza subirci questa legge del cacchio. Comunque vi faccio vedere questo piccolo video di che cosa è cambiato su YouTube. Ok raga, adesso siamo su YouTube, ho preso questo video come esempio, cioè i remix di Umbrella della canzone di Rihanna, ok tutto al caso. Allora, come possiamo vedere è cambiato parecchio, cioè non si può più scaricare i video, non si può più salvare e come si può vedere i commenti sono disattivati. E facciamo per esempio un esempio che adesso accendo, cioè premo il video. Vabbè parte da canzone, però quando abbassiamo, ecco come potete anche notare, il mini player è disattivato per i video destinati ai bambini. Quindi quando fate così, è che un video è destinato ai bambini, si bloccherà. Non è che si bloccherà, è solo che si bloccherà, però quando raggiate potete continuare tranquillamente a sentire il video. E sì, questo è quello che ha cambiato YouTube. Ecco, da come avete visto dal video in cui vi ho fatto vedere, YouTube è cambiato in questo modo. E sì, è una cosa molto sad, ma purtroppo dobbiamo tenerci a questa legge di cui ci ha dato YouTube. Comunque voglio dire una cosa, spero che YouTube capisca questo grande errore che ha commesso, che ha fatto per noi. E che lo tolga immediatamente, non fra tanti anni, ma fra qualche mese, spero che lo tolga, oppure prima o dopo comunque la deve togliere, perché per noi non è affatto giusto. E niente, vi saluto così e ciao!